E' il giorno del ricordo per Giampilieri e Scaletta Zanclea che rivivono il dolore di quel primo ottobre del 2009. La devastante alluvione provocò morte e distruzione nei villaggi della zona sud di Messina. Non solo Scaletta e Giampilieri ma anche Altolia, Molino, Santo Stefano Briga, Briga Superiore e Pezzolo. Una bomba d'acqua che fece venire giù interi costoni, una valanga di fango e detriti che attraversò la vallata trascinando tutto e tutti. Fu una tragedia in mane. Decine di case colpite in pieno dal fango, molta gente non riuscì a salvarsi e alla fine si contarono 37 vittime e non tutti i corpi furono recuperati. Si parlò morto delle responsabilità di chi poteva e doveva adoperarsi per mettere in sicurezza quelle montagne con dei soldi che tra l'altro erano già stati stanziati per queste finalità. Fu uno strazio senza fine. La protezione civile regionale ha attuato interventi considerevoli di messa in sicurezza del territorio. Allo stato attuale sono stati impiegati quasi 200 milioni di euro con oltre l'80% dei lavori completati o in corso di completamento. Intanto è ripreso il processo per l'accertamento delle responsabilità. Sono 15 gli imputati tra cui l'ex sindaco di Messina Giuseppe Buzanca, il sindaco di Scaletta Zanclea Mario Briguglio, l'ex dirigente della protezione civile regionale Salvatore Cocina, l'ex commissario straordinario del comune di Messina Gaspare Sinatra. Ma oggi è il giorno del dolore e del ricordo per le 37 vittime e per i 5 dispersi, Santi Bellomo, Carmela Cacciola, Chetti De Francesco, Alessandro Sturiale e Carmelo Ricciardello. L'imprenditore di Brolo per la cui scomparsa solo di recente l'assurda burocrazia ha consentito alla famiglia di avviare la penosa procedura per la morte presunta. L'imprenditore di Brolo per la morte presunta.